Allora, buongiorno, partiamo con l'interattivo, questo è il mio primo interattivo su YouTube, ne seguiranno altri, questo è dedicato ai single per i prossimi tre mesi o quattro comunque, in realtà i tempi dei tarocchi non andrebbero mai dati o comunque andrebbero dati con molta cautela, quindi comunque diciamo nel prossimo futuro se ci saranno, ci sarà una storia, un'avventura, una frequentazione, quindi single, cosa vi riserva l'estate in arrivo con fra l'altro l'apertura finalmente delle regioni a breve, quindi comunque anche la possibilità di relazionarsi di nuovo, sempre ovviamente nel rispetto delle norme stabilite dal governo, però voglio sapere se ci sarà un'avventura o una frequentazione o una storia per i single. Le varianti sono tre, avventurina, cristallo di rocca, lapislazio, potete bloccare il video, guardare, potete scegliere distinto, vi consiglio di scegliere quella che a pelle, a naso, vi risuona di più, così giusto per dire senza pensarci troppo, ecco, e così di spoilerare, si dice, il video finché non avete poi, se uno ha scelto la terza si salta gli altri due. Se avete più domande potete anche guardare due versioni, tre versioni, però in realtà già trattandosi di un interattivo la cosa è piuttosto ampia, quindi non andrei ad allargare tanto il ventaglio di possibilità, quindi niente, le opzioni sono tre, avventurina, cristallo di rocca e lapislazzolo. Qualche secondo e poi iniziamo. Ok, allora, veniamo a chi ha scelto l'avventurina. Mi sono scordato di dire che il tarocco è il golden dove in tarot, e invece l'oracolo è anche il feminine wisdom, che io uso da tempo, con molto, con molta, diciamo, con ottimi risultati, ecco. Allora, vediamo un po' a voi. La prima carta è la morte, ok? La seconda è la papessa e la terza è il carro. Mentre qua abbiamo devozione, grazia e saggezza. Allora, per chi ha scelto la variante 1, io posso pensare di poter parlare, nella lettura canonica passato, presente e futuro, del fatto che comunque c'è stato un taglio, un taglio simboleggiato dalla morte e un taglio che praticamente voi avete operato vostro margrado, perché probabilmente il taglio è stato fatto da voi, penso, e mi viene da pensare che il taglio può essere dato o ad una persona, ad una situazione che non tolleravate più, o se non addirittura alla presenza di un'altra persona. Quindi, in realtà, qua io vedo un cambiamento. Questo cambiamento c'è stato anche per voi interiormente, perché? Perché, ovviamente, tutto quello che avete poi vissuto, avete attraversato per via di questo taglio, vi ha profondamente cambiati. Diciamo che al momento c'è anche quasi una piccola chiusura da parte vostra. Nonostante, vedete come fa questa carta? Nonostante questa carta, in un certo senso, vi porga una coppa. Non è questo il significato principale della papessa, e adesso andremo ad analizzare le carte a modo, e mi spiegherò meglio. Però, in un certo senso, qui c'è un'offerta, c'è una... Allora, prendendo il valore delle singole carte, andiamo quindi, ripartendo da zero, partiamo dalla morte. La morte rappresenta un taglio, lo abbiamo detto, però rappresenta anche una rinascita, perché, comunque, la morte è un'operazione, alla fine, non fisica, quella rappresentata nei tarocchi. La serie numerale non finisce con l'arcano numero 13. In realtà, nei mazzi storici, nemmeno porta il nome. Questo può essere, sì, per una cosa superstiziosa all'epoca, ma può essere anche, soprattutto se letto a livello sottile, del fatto che, comunque, la morte è una trasmutazione. Quindi, voi, in seguito a questa rottura, in seguito a questa, siete trasmutati. Ora, qual è il discorso qua? Che questa trasmutazione della morte è sempre rapida, veloce, però, magari, nel suo, nei suoi, si fa, ecco, si fa pesare per un po' di tempo, diciamo. Quindi, è una botta che vi casca fra capo e collo, quindi qui c'è proprio un taglionetto con un'altra persona. Forse, ripeto, a causa di un terzo o di una terza, se siete donne. E qui c'è proprio un taglionetto, un rifalciare. Però, come vedete, qua giù, in realtà, ci sono, ci sono delle facce che, secondo alcune interpretazioni, tra l'altro una è coronata, noi non sappiamo se queste facce sono falciate o stanno rinascendo. In fondo, qua abbiamo la ciclicità lunare e qui abbiamo proprio i simboli alchemici di acule e serpente, e quindi, per eccellenza, direi che questa rinascenza, per quanto comunque sento ancora il dolore della perdita, della separazione, alla fine sta arrivando, anche perché la vedo un po' nella posizione passata. In questo momento c'è un settaggio. La papessa è una carta che si lega agli accordi, ai segreti, alla freddezza, alla luna, alla legge. La luna, come vedete, questa figura ha proprio un cima, si lega alla grande madre, si lega anche alla figura di una donna comunque presente ancora nei vostri pensieri, o di un uomo, se siete donne, che comunque può essere benissimo quello legato dal passato e dal quale state comunque cercando di allontanarvi. Diciamo che in questo momento c'è molta solitudine, c'è molta freddezza, c'è molta freddezza e state un attimino, secondo me, lavorando su voi stessi, magari non con un lavoro meticolosamente, oggi mi mangio le parole, portato avanti tramite, che ne so, discipline di autorealizzazione, eccetera, eccetera, quanto in realtà proprio state un attimino cercando di darvi quelle spiegazioni che al tempo non siate riusciti a darvi. Ora, da carta 3 io non voglio fare l'uccello e il malagurio, però mi spaventa un po', perché si tratta del carro. Allora, ci sono due accezioni in questa lettura e ve le passo tutte e due. Purtroppo devo dirvi che, sì, l'avventura, il ritorno, c'è, qui c'è proprio il ritorno, c'è proprio il ritorno, però in realtà, così come nell'iconografia tradizionale, non è in questo caso, per carità. Le redini, non si sa chi le ha. E il carro è una carta, oltre ad essere rappresentata comunque di movimento, però in questo caso, purtroppo, la figura mi esce che guarda quest'altra, quindi in realtà qui penserei, queste sono proprio centrate su questa figura qua. Quindi penserei che c'è un ritorno di questa persona, sicuramente. E però c'è anche una certa teatralità di fondo. Quindi in realtà non so se questo ritorno voi lo accoglierete così come avreste fatto prima di questa rottura, perché probabilmente non sarete convinti. C'è anche teatralità, c'è finzione, c'è... Quindi è un attimino... Ecco, sarà un ritorno da cui vi sottrarrete volentieri, una volta che avrete capito perché l'altra persona è tornata, che l'altra persona magari torna con le buone, con le migliori intenzioni del mondo. Però... Qui siate proprio voi che desiderate andare verso cose nuove, desiderate... Quindi sì, diciamo che nel giro di... Scusate... Nel giro di due o tre mesi io vedo che, anche quattro, facciamo comunque in tempi brevi, vedo che c'è questo ritorno, vedo che è una persona con la quale avete rotto, ma vedo anche che è una persona dalla quale prenderete le distanze. Ciò non vuol dire che non andrete a vivere comunque un altro momento magari di armonia, però sarà molto, molto, molto breve. Molto breve perché alla fine voi capirete che la persona non è cambiata, non fa per voi e quindi fuggirete. Probabilmente fuggirete verso un'altra persona, perché comunque il carro non è una carta di fuga così... Cioè, è proprio una carta di vittoria. Quindi in realtà qui voi andate a riprendervi la vostra vita e probabilmente sarà questo il momento in cui taglierete definitivamente con questa situazione del passato che è il momento vista un attimino. ancora addosso. Allora, veniamo all'Ancient Feminine Wisdom, abbiamo Alcesti, devozione, quindi... Sì, devozione, però in realtà questa carta qua ci dice che generosità, devozione, benessere sono atti dovuti prima a se stessi, perché comunque non si può fissare. Secondo me qui avete settato un attimino, è la classica relazione che dico se non c'è lei io non sto, se non c'è lui io non sto. No, qui in realtà dovete imparare un attimino ad essere devoti, sì, ma a voi stessi, perché comunque è un po' questo che vi stanno, secondo me, dicendo. Avete la grazia, quindi comunque in realtà qui c'è anche un discorso di comunicazione, quindi probabilmente questa persona la ritroverete in un ambito di comunicazione, quindi può essere benissimo via social, può essere benissimo tramite amici in qualche evento mondano o addirittura mentre vi recate in giro a... non credo per lavoro, perché non è una carta legata al lavoro questa, non è una carta legata al lavoro, quindi probabilmente questa aggiunge un dettaglio, però legata agli accordi, alla papessa, al lavoro e alla papessa, quindi qui mi spingerei a dire se dovessi vederla sul lavoro, che è una carta che può riguardare quelle persone che per lavoro si muovono, proprio da una città all'altra, allora qui in questo caso vi direi di sì, ma se parlate di una carta, di un'area di lavoro ristretta, no, questo è più un evento mondano, un gruppo Facebook, una chat, forse più addirittura in virtuale, però ci sta anche lontanamente il discorso della cosa di lavoro. Beh, questa alla fine è un po', a parte la posizione che è simile a quella del carro negli marsigliesi classici, è un po' la scelta che andate a fare, voi riuscite a settare questo rapporto, le modalità in cui torna, ve l'ho già detto, torna in modo trionfale, torna per ricucire, torna per... ma qui voi siete diventati più saggi, quindi qui in realtà voi non andate a scegliere di ricucire questa cosa, diciamo che la abbandonate. Niente, va bene, la prima lettura era questa, quindi variante dell'avventurina avrai un ritorno, però sarai tu il primo o la prima a non volerlo. cristallo di rocca, una luna, una stella e la temperanza. Qua ci sono notizie buone, ok. qua ci sono ottime notizie per chi ha scelto la variante 2, perché apre con la luna, quindi apre con una carta di lavoro occulto, non nel senso magico ovviamente, lavoro occulto in quanto segreto, comunque magari anche quelle persone che si sono già viste, però che ancora non hanno reso pubblica fra conoscenti e amici la loro relazione, quindi i primi interessi che nascono, ma può essere anche lo spiarsi attraverso social o comunque il guardarsi, lo studiarsi, qua c'è uno studio intorno che va, qui è molto lineare in realtà, va a sbocciare, perché comunque alla fine abbiamo, se guardate il simbolismo, sono tre carte proprio luna, stella, sole, qua c'è un venire su della luce veramente forte, qui sì direi che ci sta un'avventura per i prossimi 3-4 mesi, una storia per i prossimi 3-4 mesi, ci sta con una persona che già state studiando, qui va molto veramente lineare, c'è veramente poco da dire, torna l'acqua in tutte e tre le carte, quindi torna in realtà un elemento che è proprio di per sé occulto, perché poi sappiamo l'acqua entra dappertutto, però vedete che qua c'è un attimino un sentiero, un varco fra due torri, però in realtà l'acqua che qui è è diventata, diciamo, c'è l'acqua che qua fa paura, diventa l'acqua buona, l'acqua qui della stella, l'acqua dove lei versa la sua esperienza, addirittura l'esperienza di due vasi che poi sono gli stessi della temperanza, qui c'è molta sessualità, anche questa è un'estate molto bella per voi, della variante 2 sicuramente del cristallo di rocca, e addirittura abbiamo un essere qua giù, che ha questo granchio che esce dall'acqua, che si avvia lungo il percorso, che qui invece c'è qui ancora qualcosa di, non dico in formi perché forma l'ha per carità, comunque qualcosa di razionale, una semplice attrazione che qui invece ha preso forma perché è proprio la figura della stella, e tra l'altro diventa poi addirittura un angelo nella temperanza, quindi qua c'è veramente, guardate il vulcano che esplode, qui c'è proprio un'esplosione di bellezza, di sessualità, qui si, qui va a crescere, va a crescere e sicuramente vi darà, vi darà veramente tanto, e anche l'ancient femminino wisdom va a confermare questa cosa, in quanto comunque ha un amore irrequieto, quindi comunque quegli amori combattuti, spiati, anche comunque quindi in questo momento magari state anche sospettando, forse avete conferma che questa persona abbia un'altra persona, nella quale si sta avvicinando, probabilmente ce l'ha, ma in realtà qui c'è strategia Atena, e alla fine riflesso, che guardate, si parte da una luna oscura, una luna comunque iconograficamente classica del tarocco, quindi una luna che dà sospetto, dà paura, dà illusione, anche in alcuni casi, e si arriva a una luna come quella di Selene, cioè riflessione, alla fine non c'è, l'unica cosa magari in cui vi invitano è a lasciar fluire un po', perché comunque la strategia di per sé potrebbe proprio riferirsi a questo, cioè in realtà non siate troppo pressanti, o troppo date tempo, perché sicuramente questa cosa è nel vostro destino, anche se la carta di Selene avverte anche comunque che è una, come del resto la carta della luna, che non sarà una frequentazione definitiva, perché comunque come la luna ha le fasi, questa parla proprio di cicli, di esperienze fissate, cioè che hanno un limite temporale, quindi comunque qua sarà una cosa che poi duri da pochi mesi a qualche anno, qui sarà proprio una cosa ciclica, ma può durare anche meno di pochi mesi, però comunque in realtà qua va increscendo, riuscite a realizzare questa cosa qua, e poi dopo il ciclo passa, la fa in soccorso, però qui è molto lineare, qui l'avventura c'è, ve lo confermo per il single, non è il grand'amore della vostra vita, ecco questo volevo dire, però in realtà vi dà molto, quindi anche la variante 2 può ritenersi soddisfatta direi, veniamo alla variante 3, allora, variante 3 ha delle carte non proprio adatte, il single da variante 3 deve aspettare un pochino, perché ha, scusate, nell'attuale ha l'appeso, quindi in realtà c'è un momento di fermo, forse anche di difensiva sua, che nella carta si vede poco, nasconde un po' una tempesta interiore, è una carta molto 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 particolare, parla sì di potenziale, alcuni dicono che sta seminando, Giodoroschia mi piace molto citare, parla del sole che nasce, però è una carta di fermo, è una carta di fermo, una carta di sacrificio, di pesantezza, una carta che descrive un attimino una situazione abbastanza, non proprio leggerissima, e diciamo che potrebbe esserci la conoscenza o il ritorno di una persona che comunque vi è vicina, che comunque, ma non è proprio, propriamente una storia d'amore, perché, ve lo dico subito, perché in realtà siete invitati a cambiare, siete invitati a cambiare, a migliorare, a ricostruirvi, a ripensarvi, perché in realtà può darsi anche che qua si parli di un'occasione sfuggita, per vostra paura di avere storie, per il vostro blocco, e ci sta molto, in quanto comunque la carta dell'appeso è una carta che sappiamo, abbiamo detto ora, parla di 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 fermezza, di sacrificio, di di quiete, però in realtà quiete è solo apparente, perché nasconde dentro dei profondi blocchi, simboleggiati da questo mare tempestoso, mentre la carta della forza è una carta che proprio qui è proprio palese il termine, è proprio la carta di forza, quindi tutti quegli atti su noi stessi e sugli altri che hanno l'imposizione di una volontà, la manifestazione di un atto di volontà, l'atto di volontà legato all'appeso, quindi può essere quello di mantenere questo blocco, e questo blocco lo si può cambiare solo in seguito ad un evento che vada a ricostruire tutto il sé, quindi qui probabilmente in realtà non c'è un'avventura o nemmeno una frequentazione per il prossimo futuro, però in realtà c'è un grande lavoro su voi stessi da fare, probabilmente in vista dell'arrivo della tanto sospirata persona, come si dice oggi negli interattivi fiamma gemella, un neologismo molto 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 simpatico che però mi risuona solo in parte. Qua avete proprio avete proprio Ifigenia, quindi il sacrificio, quindi c'è una persona che questa nave che è nella tempesta alle sue spalle deve lasciarsela alle spalle e benché porti segni di questa cosa qua, perché comunque è vestita in maniera, agghindata in maniera lottuosa, quindi comunque di viola è il colore proprio del lutto, ecco, in realtà sta abbandonando questa spiaggia, sta venendo via, quindi qui avete una persona che deve distaccarsi da una sua interiorità che l'ha traumatizzata. Non penso che questa può essere legata anche a un'altra storia, per carità, però in realtà non credo che sia legata a un'altra storia, questo penso che sia proprio una cosa vostra, magari dovuta anche ad altri traumi ricevuti da amici, per carità, comunque qua la carta parlerebbe di famiglia, però non voglio spingermi a tanto, ci mancherebbe, mi permetto di offendere nessuno, di dire, però ecco, qui c'è proprio un lavoro da fare su se stessi, anche perché il destino a me mi ha insegnato che non aspetta. Ecate il crocicchio, quindi in realtà qua presto c'è un bilio di cambiamento e di ripensamento di sé, può essere addirittura un trasferimento, può essere addirittura un cambio di lavoro, può essere addirittura un evento traumatico che però vi costringe a ripensarvi e come vedete torna memoria, se lo mette a fuoco lo vedete, memoria, quindi comunque una carta che va a parlare appunto di queste cose qua che dovete settare, quindi in realtà qui la vicinanza a un'altra persona è molto 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 funzionale a quello che voi avete dentro e dovete curare quello, se vedete le mie mani così è perché il gatto si diverte, vabbè, io devo settare il gatto, è proprio questo, proprio questo che dovete fare, dovete settare la vostra la vostra memoria, dovete uscire da questa cosa qua e ci uscirete sicuramente in seguito ad un evento non proprio bello o comunque ad una non parlo di eventi casastrofici ovviamente o comunque ad una presa di coscienza vostra veramente, veramente, veramente forte però in realtà qua voi avete un cambiamento totale e probabilmente dopo questo sarà magari io farò altri interattivi anche per il single probabilmente sarà questo che vi spingerà ad avere più in qua la vostra realizzazione in amore perché comunque come vedete delle piccole 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 frequentazioni magari con una persona sola come ho detto prima ci sono però tutto rimane a livello molto 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 fermo qua non vedo grandi sviluppi io quindi penso che la variante 3 sia l'unica che può dire di non essere pienamente soddisfatta ma magari si tratta solo di dover fare questo passo in più e magari una volta fatto questo passo in più riusciamo ad andare oltre e a comprendere che cosa che cosa dovevamo fare e quindi magari a quel punto che siamo settati un attimino di più noi arriva anche l'amore con questo è tutto io vi ringrazio e scusate il primo interattivo un po' tirato in fretta un po' pasticciato con le mani morse dal gatto però magari prometto di migliorarmi nei prossimi che farò ci vediamo prossimamente questi interattivi dico l'ultima cosa sono ovviamente gratuiti come tutti interattivi e non hanno una cadenza fissa perché al momento non mi sento di avere una cadenza fissa quindi in realtà se volete mettete il like al canale e sarete avvisati quando quando metterò questi questi video buon pomeriggio a tutti e buon weekend and Grazie.